Buonasera, chi siete? Io sono Davide, io sono Mari e io sono Andrea e noi siamo Teatribù, come dice anche la maglietta, siamo una compagnia che fa improvvisazione teatrale. Cosa fate questa sera? Allora stasera proviamo a fare un musical in 100 secondi sulla storia di uno del pubblico. Avremo bisogno che qualcuno di voi della giuria vada a chiedere a qualcuno del pubblico delle informazioni semplici. Maschio femmina è uguale. Tempo di luce. Come si chiama? Maria. Sieta qua vicino a me. Eccola qua. In braccio. Maria abbiamo bisogno del tuo mestiere. Cosa sai nella vita? Casalinga però facevo la salta. E un tuo sogno nel cassetto? Per il futuro la salute. La salute? Perché ho già abbastanza tutto. Sono una bella famiglia. Sono nonna, sono super nonna. Bisnonna. Bisnonna. Tra due mesi facciamo 50 anni di matrimonio. Però un sogno è anche una cosa che non ha ancora realizzato. Una cosa che le sarebbe piaciuto fare nella vita. La balle. Non lo so. Non voglio. Di abitare al mare. Al mare? Di abitare al mare. Maria. Sarta. Ora Casalinga vorrebbe abitare al mare. E noi ti ci porteremo. Nonna. Tesoro. Bisnonna. Scusate. Non vorrei interrompere questo quadro familiare. Devo attaccare un bottone. Signora i miei pantaloni sono pronti. Infatti fate lavorare la nonna che dalla vita ha avuto tanto e tanta pazienza soprattutto. Guardi mi faccia delle pants, mi faccia delle pieghe, dei plissè, dei... Però, però, se io potessi veramente scegliere. Io non vorrei star tutta la vita qui a cucire. Mi piacerebbe per esempio un poco uscire e andare al mare. Non so se posso portare tutti via con me. Ma un giorno fare un bagno lungo, più grande del bidet, mi piacerebbe andare lontano. Se vuoi io ti do la mano, ma andiamo. Benvenuta a Celle Ligure, signora. Guardi che bello, bello, anche c'è tutta una vista sul mare che è uno spettacolo. Sì, ma il mare non mi fa male perché io lo voglio ma ci tengo anche tanto, tanto alla salute. Ma signora, ma si mandavano anche i reali di Inghilterra e di Germania a svernare qua da noi. Si sdrai, Maria. Benvenuta a Maria, benvenuta a Maria, benvenuta da noi, questa vita ti aspetta, solo se tu la vuoi, resta con noi, resta con noi. Avrei un desiderio piccolino, prendere un aperitivo col bagnino. Yeah! Sono le performance come queste che secondo me meritano un'opportunità in questo programma, ma non solo. Cioè, per me voi siete da finale, neanche da semifinale. Cioè, siete veramente degli artisti, degli attori, creativi, con la testa che va mille perché è tutto improvvisato. Avete spacchettato! Uh, grazie. Ci sembra di capire che vi sono piaciuti molto. A Torino hanno spacchettato. Aspetta, aspetta, tienti... Espetta, aspetta, ai minuti... Grazie, grazie davvero. Questo esattamente significa che non passate neanche dal Selection Day, mandate direttamente a live di Milano. Grazie, grazie davvero. Siete un po' i pupilli di Luciana, ognuno di noi ha diritto a un solo Golden Basin tutta la stagione. Io purtroppo l'avevo già usato. Frank anche, io no, ma Luciana l'ha usato oggi. No, l'ho usato perché secondo me è appunto un'arte, una disciplina difficilissima perché loro possono fare tantissime cose, possono andare in tutte le trasmissioni perché sono eclettici, possono fare qualsiasi cosa. Per cui sono bravi, originali. Poi loro, insomma, non sono più di primissimo pelo, mi sembrano. Già caduto, guarda. Mi stimo tantissimo. Allora in teatro i buli, aspettiamo a Milano. Ci vediamo a Milano! Grazie. Ciao, belli! Grazie.